L'inizio del mese di maggio, il mese dedicato a Maria, quindi il primo maggio c'è anche questa ricorrenza, una recita di maggio davanti, purtroppo l'immagine precedente è sparita e quindi questo è un rosario per la pace ma anche per la riparazione e per cercare la conversione dei peccatori e di tutti noi. Quindi il primo maggio per i lavoratori, per la pace, perché guardiamo a Maria come, qual è che si può aiutare.